La fumata bianca è arrivata a metà pomeriggio. L'accordo di programma sulla ferriera è stato finalmente firmato da quattro ministri e un sottosegretario, presenti le nostre istituzioni locali. Si avvia così un percorso di reindustrializzazione del sito della ferriera attraverso l'approvazione di un progetto di recupero presentato dall'imprenditore che parteciperà al bando di gara. E questo sicuramente è un fatto importantissimo, il fatto che si siano rispettati i tempi è altrettanto importante e questo si spinge a ulteriore pressione per quanto riguarda ora il bando di gara che è altrettanto fondamentale. Ora il testo andrà analizzato nel dettaglio ma già si sa che contiene nero su bianco, piani per il rilancio delle attività industriali, il recupero ambientale, la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'area produttiva e portuale di Trieste, in particolare della ferriera. Soddisfazione dei sindacati per questa improvvisa svolta. Fondamentale per tutto il percorso che ci aspetta e dunque a mio avviso la Seracchiani ha fatto il suo. Adesso altrimenti dobbiamo leggerlo e dare un giudizio o valorizzare quello che sono i contenuti. Noi andremo a sviscerare quelli che sono i contenuti per comprendere e per valutare in una fase sicuramente successiva. Questo è il primo passo in avanti che deve portare al più presto il bando di acquisto. Nota polemica all'assenza dell'autorità portuale. La presidente Marina Monassi ha fatto sapere di non aver siglato il protocollo perché il testo emendato avrebbe portato a una diminuzione di entrate al bilancio dell'ente non quantificabile e a un accollo straordinario di oneri ambientali. Un comitato portuale è convocato per lunedì mattina.